Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori è un momento particolare le persone coinvolte in questa situazione terribile sono seguite in continuazione stanno seguendo il protocollo che gli è stato assegnato così Gio Barone, microfone del canale ufficiale Viola il braccio destro di commisso ha raccontato come la Fiorentina sta vivendo questo particolare momento il nostro medico e il suo staff stanno facendo un lavoro incredibile ha detto Rocco chiama in continuazione c'è vicino aiuta anche se è in America da più parte intanto arrivano manifestazioni di vicinanza e supporto non ultimo Gabriel Batistuta voglio mandare il mio affetto e la mia solidarietà alle persone colpite dal coronavirus in tutto il mondo augurando un pronto recupero un abbraccio speciale a tutti gli italiani e ai giocatori Viola che spero di vedere presto per Fiorentina1.com Beatrice Canzella Viola Tweet Viola Tweet a cura di Fiorentina1.com la voce del tifoso Viola